10 delle frasi più belle di Giulio Cesare È più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. In guerra gli eventi importanti sono il risultato di cause banali. Ciò che vogliamo lo crediamo anche volentieri, e ciò che noi stesso pensiamo, immaginiamo che anche altri lo pensino. Nessuno è così forte da non rimanere turbato da una circostanza imprevista. Di regola, gli uomini si preoccupano più di ciò che non possono vedere che di ciò che possono vedere. Già che se il diritto si deve violare, violarlo si deve per la conquista del regno, in tutto il resto osserva la pietà. Tutti i cattivi precedenti hanno avuto inizio come misure giustificabili. Generalmente, gli uomini prestano fede volentieri a ciò che desiderano. Amo il tradimento, ma odio il traditore. Preferirei essere il primo in questo modesto villaggio piuttosto che il secondo a Roma.